Salve a tutti gente, sono Dive e siamo tornati in un nuovo video. Se parlo a voce bassa è perché sto registrando praticamente di notte e di sera. E non posso urlare, perché qui dormono. Chi dorme? Mia moglie. Che cosa facciamo in questo video? Ma in realtà, niente di che, perché, come dire, facciamo solo un po' di unboxing. Poca roba. Poca roba, mi trasformo un attimo il gesto che mi posso trasformare, in modo che abbiamo un loot più pregelato. E niente di che. E poi ce li apriamo direttamente. Diamond, albero della gomma. Che poi, io sto raccogliendo così senza guardare, perché poi, se vedete, si trasformano specialmente i equipaggiamenti. Ok, questo è un altro artefatto. Ok, niente di che. Vediamo un po' che cosa c'abbiamo di buono. Questo è la versione 6. Penso che è meglio quello che abbiamo. Questo è la versione 2. Ok, si ricostituisce in mano, non ci interessa. Ok, non lo dire realmente interessante. Andiamo a posare. Ora, invece, passiamo all'apertura di questi legendari. Quindi, ragazzi, io sono mancato per una settimana sul canale, lo so, mi chiedo scusa, ma sono stato, come dire, un po' impegnaticcio. Sono quasi pieno. Sono pieno. Sono effettivamente pieno. Vediamo cosa mi fa buttare qui dentro. Nulla. Ok, questi sono cose normali, una spada non ci interessa, neanche quest'altra. Questo, posizione 8, che è meglio di questo. Breaking, turns, e alt boost. Ok. Posizione. Potrebbe essere migliore. Ok. Diamond, punt. Sizione 6. Sizione 6. Speed boost. Questo niente. Questo, sempre posizione 6. Un altro health boost. Ci sta. E poi resta tutta roba, anche in realtà, non ci interessa. Chanceyube. Buttiamo qui dentro. Questo. Questo. Così, devo costruirci. Tutta di qua, tutta di qua. Di qua, anche questi. Temporaneamente, potremmo buttare anche altre cose di là. Ma, in realtà, non me l'ho più di tanto. Vediamo un po'. Che cos'è questo. Quest'è questo. Quest'è questo. Non so che cosa significhi. Che cos'è questo. Quest'è questo. Quest'è. Che cos'è il legendario? Quassino 8. In realtà, non ci sto scendo quasi niente. Mi interessante. Speravo. In meglio. Ma nulla. Purpur. 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 Questa cosa si. Questo neanche mi serve. La faccia del leggenda. aiuto così che c'è tuttora di qua di qua buttare si buttano sotto mettiamoci anche il collo qua è stuposo qui i lingottini andiamo a posare la destinazione qui si buttano anche l'ossidiano che sta già in acqua io non so cosa ci serve lo mettiamo di qua adesso prendiamo un po' di questi che anche sono carini questi ne apriamo veloce senza perdere proprio tempo tutto tutto a terra macchissime è finito tutto che cosa ho buttato? nuvole imbottigliate va bene va bene niente che va qui dentro in realtà quasi tutto anche questo togliamo queste nuvole imbottigliate questo può esserci utile forse e buttiamo non lo so che cosa un break oh questo è bulla questo non so cosa sia questo non so cosa sia non lo so il tema di dislocate ok void ok void food pipe e st st dirti st non box inti t non so che cosa è anche questo questo posso indossarlo non credo questo è attivo adesso dovrei raccogliere automaticamente tutto ehm mentre con questo posso pensare comunque quello che mi chiedo è un break in moon si è come quella diamond la prima cosa che è un break in wow spettacolo quindi questo lo potrei consumare ehm vabbè la raccolta di materiali la si fa da sola e noi poche morta abbiamo fatto questo unboxing rapido e dolore dobbiamo posare starbruscelli qua e per questo video è tutto al prossimo video che cosa voglio fare andare avanti con le questi diciamo questo sarà un video relax dopo tanto tempo che non registravo quindi ci può stare di là di un punto alto dai e le bontà bom ed è è uscito un altro po' di roba che in realtà non ci serve nulla questo non ho capito che cos'è che mi illumina così tanto ma va bene ma va bene sono venuto di là ma senza alcun risultato ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti